Ciao a tutti ragazzi, mi è arrivato questo sito formidabile, un sito top, un sito che vale tanto, 100% garantito, vi lascio qua il link del gruppo e se scrivete all'amministratore del gruppo e utilizzando il mio codice sconto alle Acqui riceverete 20 euro di cashback di benvenuto. Inoltre, chi è già iscritto, non ci sono problemi, passa direttamente da noi e riceve sempre 20 euro di benvenuto, non problem. In più, un'altra cosa, questa qua è formidabile, anche questa, se al mese, ne durante nel mese, perdete 100 euro, di questi 100 euro riceverete il 20%. Io entrerei subito nel sito, vi lascio qua il mio codice, il link del sito, del gruppo, scrivete all'amministratore e poi dopo altre informazioni chiedete a lui.